Anticipazioni Uomini e Donne, Tron Over, torna una dama sorpresa, Giorgio e Gemma in love, arrivate le nuove anticipazioni di Uomini e Donne del Tron Over, Gemma e Giorgio protagonisti come sempre, mentre una dama, che non aveva più intenzione di tornare nello studio, sembra proprio aver cambiato idea? Dopo l'ultima puntata in cui il Manetti aveva avuto parole durissime per Gemma, sembra che le cose siano cambiate e che i due abbiano fatto pace, ma non solo complice un ballo, gatta cicova? Nuova registrazione Uomini e Donne Tron Over, Gemma sotto accusa, brutta sorpresa per Sossi Nella giornata del 5 gennaio 2018, dopo una lunga pausa dedicata alle vacanze natalizie, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai senior. Dopo aver fatto il punto, tragico, della situazione, ecco che entra Gemma con una sorpresona, ebbene, la dama ha deciso di iniziare la conoscenza di Raffaele, nonostante abbia finalmente ammesso, con pace di tutti, di essere ancora innamorata di Giorgio che, però, non ricambia. Non passano neanche un paio di minuti e nello studio esplode il caos più completo, ovviamente prevedibile, in prima fila contro Gemma, Tina Cipollari e la dama Valentina. Maria De Filippi fatica a calmare gli animi e, una volta riuscita nell'impresa, si decide di voltare pagina, si passa quindi a parlare di Ida e Sossio. La dama aveva scelto Riccardo, ma anche in questo caso c'è il carico da 40 pronto a essere messo sul tavolo, Ida infatti ha sentito Angelo, Sossio si indispettisce così come Riccardo, che chiede un chiarimento con Ida dietro le quinte. Nel mentre, parte il ballo di gruppo. Uomini e donne, puntata Tron Over, il bacio di Gemma e Giorgio, una sfilata infuocata. Sulle note di Alessandra Amoroso e del successo nei fidati ancora di me, ecco che Giorgio e Gemma ballano insieme sorprendendo tutti, finendo poi per scambiarsi un bacio, che stanno combinando, dopo la parentesi romantica, Ida e Riccardo rientrano e la donna conferma di voler conoscere solo lui. Infine, le signore si sfidano a colpi di gonnella nella consueta sfilata, Anna Tedesco, bellissima e in forma smagliante, decide di confrontarsi con Gemma, la Galgani sfila in sottoveste, ma a stravincere è la bionda Anna, che lascia senza fiato anche Giorgio. Non ci resta che attendere l'apertura ufficiale della seconda tranche di uomini e donne per vedere come si eboldranno queste delichi situazioni, appuntamento all'8 gennaio 2018 su Canale 5, mentre vi ricordiamo che c'è posta per te andrà in onda sabato 13.1, sempre sulla rete Ammeraglia in prima serata.